ciao a tutti ragazzi da iron farm e ben ritrovati in questa nuova video presentazione oggi vi porterò una mod molto interessante che può andare ad aumentare di parecchio il realismo di gioco in farming simulator 2017 per quanto riguarda la simulazione della gestione dei nostri animali allora prima che voi facciate un salto in avanti solo per vedere che cosa succede vi dico una cosa molto importante in quanto per far sì che la mod funzioni in maniera corretta c'è un parametro da modificare nel salvataggio altrimenti la mod non funziona allora la mod che cosa permette di fare permette di gestire attraverso un ad che si attiva con lo shift sinistro e il tasto asterisco del tastierino numerico che è questo e questo piccolo ad come poi andremo a vedere consente di visionare e gestire lo stato di benessere del nostro bestiame e di vedere che cosa ha bisogno al momento quindi mano a mano che gli animali avranno bisogno di acqua di paglia o di cibo l'ad si aprirà automaticamente e vi segnalerà che cosa dovete fare l'ad molto comodo in quanto voi potete giocare tranquillamente con l'ad chiuso quindi non avrete diciamo il problema dell'ad che che vi va a coprire una parte dello schermo anche perché si ingrandirà e rimpicciolirà in base a quanti animali deve gestire e si aprirà solo nel momento in cui c'era necessità di fare qualcosa quindi non dovrete ne preoccuparvi di aprirlo e chiuderlo per controllare perché si aprirà da solo in automatico e non dovrete preoccuparvi di controllare continuamente lo stato di benessere dei vostri animali in quanto l'ad si aprirà automaticamente quando c'è bisogno di qualcosa allora andiamo a vedere un attimo che cosa bisogna fare per far funzionare bene la mod allora chiaramente la prima cosa da fare è scaricare la mod una volta che l'avete scaricata la installate quindi la inserite nella cartella mod di farming aprite la vostra carriera quindi ipoteticamente salvataggio 1 aprite salvataggio 1 attivate la mod all'inizio della partita quindi nel momento in cui andrete ad aprire salvataggio una volta che la mod è attivata aprite la partita salvate la partita esattamente lì dove siete e nel momento in cui salvate la partita il gioco vi creerà all'interno del file di salvataggio un nuovo file xml che sarà appunto quello dedicato alla gestione supplementare degli animali quindi andiamo a vedere un attimo che cosa dovete fare quindi chiudiamo il nostro gioco che è quello che dovrete fare anche voi dal momento in cui avrete salvato adesso nel mio caso posso uscire senza salvare perché tanto io l'ho già fatto e poi quando riaprirò il salvataggio e ricomincerò esattamente da qui quindi una volta che voi avrete scaricato la mod installate nella cartella aprite il vostro salvataggio una volta che avete aperto il vostro salvataggio salvate adesso lasciate stare qua i colori che si sono probabilmente scuriti un po' perché shadow play ha ancora qualche problema con farming e comunque adesso dovremmo essere a posto dovreste vedere bene lo schermo quindi una volta che avete salvato la partita e quindi il file si è creato andate in documenti my games farming simulator 17 aprite il vostro save game quindi il vostro salvataggio che vi interessa nel mio caso stavo giocando nel salvataggio 2 ma se voi eravate nel salvataggio 1 aprite l'1 o il 3 e così via a seconda di quale slot di salvataggio stavate utilizzando una volta che siete all'interno del vostro salvataggio vi troverete questo file qui che prima non c'era live stock manager che è appunto il nome della mod che vi sto presentando voi fate tasto destro e lo aprite con notepad plus plus che è un programma che potete scaricare gratuitamente potete aprirlo anche col blocco note ma notepad plus plus vi consente una una visualizzazione molto più intuitiva dei vari dati perché vi ordina molto meglio tutti i vari parametri mentre col blocco note vedete tutte queste righe quale vedrete in fila una dietro l'altra tutte righe lunghissime da una parte all'altra dello schermo e fate fatica diciamo ad andare a trovare i dati che vi interessano allora una volta che avete aperto salvataggio che cosa dovete fare se voi notate è diviso per categorie animali quindi avete la categoria pig la categoria cove che sarebbero le mucche i chicken che sono i polli anche se non vanno diciamo a influire nel gioco perché non hanno mangiatoio non hanno niente e ship che sono le pecore che cosa dovete cambiare voi quando voi aprirete questo file qui dove vedete che c'è scritto true troverete un false quindi vedete tutti questi questo true qua che ho appena selezionato dove ho il cursore sarà un false questo qua sarà un false questo sarà false e questo sarà false voi lo dovete cambiare in true perché praticamente su questa stringa qua è come se il gioco vi chiedesse volete che la mod prenda la completa gestione degli animali voi dovrete dirgli sì in modo che sia la moda a gestire il discorso animali e non e non il gioco come è stato fino ad ora nella seconda stringa quindi questo lo dovete fare per tutti gli animali nella seconda stringa troverete già true sarà già selezionato true per tutti gli animali che cosa vuol dire come se il gioco vi chiede volete che gli animali arrivino fino alla morte qualora voi non vi prendeste cura adeguatamente dei vostri animali voi li dite true che vuol dire sì e gli animali moriranno nel caso voi li lasciate andare quindi se non li nutrite non li guardate più l'ultima stringa che che è questo manur max che vale diciamo per per i maiali e per le mucche invece per le pecore per i polli no perché non c'è non producono maiali scusate non producono letame che cosa significa significa che 100.000 litri come in questo caso che è un valore che voi potete modificare è il litraggio massimo consentito all'interno del posizionabile di letame quindi potete tenere fino al massimo di 100.000 litri se superate i 100.000 litri che cosa succede praticamente il gioco va a simulare un eccessivo proliferare della dei batteri diciamo che causa poi malattie negli animali e quindi nonostante la cura che voi dedicherete quindi anche se ridate da mangiare da bere gli mettete la paglia a faccia e tutto quanto se c'è troppo letame comunque si ammarano lo stesso e muoiono lo stesso ok fatto questo una volta che voi avete messo true qua messo true qui true qui e anche sulle galline nonostante nonostante diciamo non siano gestite dalla moda comunque mettete true su tutti e quattro gli animali fate file salva che adesso è disattivato perché non ho portato nessuna modifica comunque una volta che voi cambiate qui salva lo potrete cliccare salvati i vostri dati e avete attivato correttamente la mod ora torniamo in gioco ok ragazzi eccoci ritornati all'interno del nostro bel simulatore siamo qui dagli animali e ora vi faccio vedere come si comporta la mod con con i maiali ma si comporta esattamente allo stesso modo anche con gli altri animali con l'unica differenza è che nelle pecore non vi farà vedere gli animali morti nel recinto comunque poi vi faccio vedere che cosa vuol dire morti praticamente la mod gestisce le pecore esattamente come mucche e maiali ma non vi farà vedere gli animali sdraiati a terra nel recinto comunque adesso lo vediamo più chiaramente però comunque funziona con tutti gli animali allora se ci andiamo ad aprire il nostro ad il nostro pda sulla schermata animali vediamo che ho eliminato gli altri ho eliminato mucche e pecore apposta per concentrarci sui sui maiali in modo da dover tenere sott'occhio solo una stalla ma stessa cosa vale per tutti gli altri animali allora abbiamo acqua al massimo paglia quasi al massimo mentre siamo un po' scarsi di cibo e la cosa è stata fatta appositamente l'ho fatta apposta per farvi vedere che cosa succede allora noi possiamo controllare manualmente attraverso l'add appunto con shift sinistro e asterisco del tasterino numerico ma si aprirà automaticamente quando abbiamo diciamo bisogno quando gli animali hanno bisogno di qualcosa allora andiamo avanti velocemente col tempo e vediamo che cosa succede allora andiamo al giorno dopo di gioco eccoci qua sono le 8 del mattino quindi andiamo a vedere che cos'è successo nel pda vediamo che le mangiatoie si stanno svuotando è scesa un po' l'acqua ed è scesa anche un po' la paglia però al momento i nostri animali hanno hanno diciamo di tutto possono ancora mangiare la razione mista completa ora se andiamo avanti un pochettino qualche qualche ora fino a quando sarà necessario perché lì dipende ovviamente dal numero di maiali che avete e dalla quantità di cibo nella nella mangiatoia stiamo andando avanti avanti eccolo qua si è aperta automaticamente l'add nel pda che ci dice chicken nessuna azione richiesta perché non abbiamo bisogno di dare assolutamente nulla ai nostri animali e ci dice pig condizione di benessere 96% hanno bisogno di cibo perché dice fill feed se noi andiamo a vedere vediamo che le mangiatoie del cibo diciamo solido sono completamente vuote si aprirà l'add anche qualora vi mancasse per esempio solo del mais o solo del formento orzo comunque come una mangiatoia si svuota che sia paglia acqua che sia cibo come una mangiatoia vuota vi si apre l'add e vi dice che hanno bisogno di di nutrimento voi andate a controllare vedete che cosa manca allora andiamo avanti torniamo alle 8 di mattina così c'è luce e vediamo che per ora siamo ancora abbastanza a posto la nostra condizione di benessere è all'84 per cento e quindi non andiamo ancora malissimo comunque vedete che la produttività si abbassa notevolmente perché se non mangiano non sono in forze e quindi non si possono riprodurre e anzi contrariamente un po alla volta inizieranno a morire attualmente abbiamo 26 maiali all'interno del recinto se voi vi prendete cura dei vostri animali tutto quanto funziona la produttività sarà alta i vostri animali aumenteranno se invece come faremo noi adesso per vedere come funziona la mod lì trascurate andranno a diminuire ora facciamo una prova chiudiamo l'add proviamo ad andare avanti un pelo col tempo e come si aggiornano i dati di gioco l'add si riaprirà subito adesso vi faccio vedere tac vedete che giustamente i maiali hanno ancora bisogno di mangiare e appena si aggiornano i dati di gioco ma andando avanti un pelino il tempo l'add si apre allora già adesso iniziamo a vedere che i nostri animali non stanno benissimo infatti vedete che qui abbiamo un maiale sdraiato a terra che sta male si sta ammalando ne abbiamo un altro qua giù che si sta ammalando anche questo ne abbiamo un altro qua non mangiano ragazzi come giusto che sia alcuni maiali più deboli iniziano a a morire a star male ad ammalarsi fin da subito ora andiamo avanti ancora un po col tempo quindi proviamo ad andare al giorno dopo diamo ancora un'occhiatina le mangiatoie siamo ancora 26 e abbiamo ancora acqua e paglia andiamo avanti alla giornata di gioco di domani abbiamo delle richieste che si aprono delle offerte ok siamo arrivati al giorno dopo di gioco il nostro maialino ha dormito la notte si è ripreso un po andiamo a vedere ancora nel pda sono scese ancora un po le mangiatoie di paglia e acqua e la produttività ancora 9 per cento la condizione come potete vedere nell'add dei maiali quindi lo stato di benessere è al 26 per cento quindi iniziano a stare veramente male andiamo al giorno di gioco di domani quindi comunque vedete che avete tranquillamente il tempo di gestire i vostri animali perché ci vanno almeno due giorni di gioco prima che inizino a morire infatti dopo due giorni di gioco che i maiali non mangiano da 26 maiali siamo passati a 22 quindi stanno stanno morendo le mangiatoie si stanno svuotando e più mangiatoie sono vuote più in fretta moriranno gli animali quindi un numero sempre maggiore di animali morirà andiamo avanti di un altro giorno di gioco eccoci qua andiamo a controllare l'add come vedete la condizione dei nostri animali è allo zero per cento quindi stanno veramente male l'add continua a dirci che hanno bisogno di mangiare e hanno bisogno anche di paglia dove c'è scritto preis strove significa che appunto hanno bisogno di paglia c'è scritto anche 10 gradi che cosa significa significa che in base alla temperatura esterna della giornata se non li mettiamo alla paglia i maiali percepiranno durante la notte una temperatura di 10 gradi quindi avranno freddo e si indeboliranno più in fretta andiamo a vedere di nuovo la nostra il nostro pda vediamo che anche la pulizia è a zero la paglia è a zero abbiamo ancora un po' d'acqua e siamo ancora a 22 animali andiamo al giorno dopo quindi facciamoli morire morire facciamoli dormire al freddo ok siamo di nuovo al giorno dopo di gioco apriamo il pda e vediamo che due nella notte altri quattro animali sono morti infatti da 22 siamo passati a 18 animali teoricamente da prove fatte andando avanti di un altro giorno di gioco anche l'acqua si si esaurirà e da 18 animali dovremmo passare a 9 quindi in questa nottata che adesso passerà dovrebbero morire 9 maiali anziché quattro quindi vedete che se li trascurate molto molto a lungo muoiono sempre più in fretta andiamo nel pda ah no siamo a 13 non a 9 quindi da 13 a 18 ne sono morti 5 proviamo andare avanti di un altro giorno evidentemente non gestisce sempre lo stesso modo comunque vediamo che la mod funziona senza problemi ok adesso siamo passati a 9 quindi quando le mangiatoie sono tutte vuote muoiono di 5 in 5 quando invece non sono tutte vuote muoiono di 4 in 4 quindi probabilmente quando magari vi mancheranno se li lasciate andare non gli date magari solo più la paglia e solo l'acqua per dire magari muoiono di 3 in 3 queste sono tutte prove che bisogna fare durante le carriere adesso non mi posso fare provare vedere tutte le combinazioni se no stiamo qua fino a domani mattina ok un'altra cosa che volevo dirvi che i maialini che vedete sdraiati a terra che si ammalano ad un certo punto li vedete che si alzano e se ne vanno tranquillamente questo perché a livello di gioco le animazioni vengono gestite un po come vengono gestite ma a livello matematico come possiamo vedere nel pda nel giro di quanti giorni abbiamo fatto all'incirca 5 o 6 giorni di gioco quindi in una settimana massimo da 26 siamo passati a 9 maiali e devo dire che questi 9 maiali che sono rimasti sono anche belli belli tosti da far morire comunque quando avrete anche gli altri animali lad si aprirà cioè si ingrandirà e vi darà anche i relativi dati degli altri animali funziona sempre allo stesso modo anche per tutti gli altri animali quindi quando vi mancherà qualcosa magari solamente alle mucche comunque lad si aprirà se vi manca qualcosa solo alle pecore lad si aprirà quindi insomma lad vi va a rompere le scatole solo nel momento in cui c'è la necessità di fare qualcosa se no diversamente voi potete giocare tranquillamente senza lad che vi rompa le scatole e se usate anche la mod wood hider che vi toglie tutti gli add di gioco comunque sia quella lì si sarà visibile ugualmente nel momento in cui i vostri animali hanno bisogno di qualcosa ok spero di essere stato chiaro di avervi detto tutto quanto spero che la mod vi piaccia io già la metterò in serie perché mi piace molto come mod e noi ci vediamo ragazzi a prestissimo in un altro video ciao ciao